Ben ritrovati amici di calciomercato.com, qui da Londra, questa volta per parlare del futuro di un giocatore che qui gioca, ma chissà per quanto tempo, Manchester City o Paris Saint-Germain, possono essere due delle destinazioni future di Alexis Sanchez, stella dell'Arsenal con il contratto a scadenza nel prossimo mese di giugno, Werther Sestis tende, vuole il rinnovo del contratto per Alexis, ma al momento l'accordo ancora non c'è, il giocatore vuole ascoltare delle offerte, già nella scorsa estate è stato molto vicino all'addio, c'era il Bayern Monaco, adesso sta spingendo molto il Paris che vorrà ancora comprare in maniera forte e sostanziosa sul mercato, ma il Manchester City non scherza, sta corteggiando Sanchez, Berger però vorrebbe chiedere un ultimo favore al giocatore che ha cresciuto con sé all'Arsenal, chiedendogli appunto di non giocare in un altro top team di Premier League. Insomma, i dubbi di Sanchez, la speranza dell'Arsenal di un rinnovo difficilissimo, offerto più volte, ma occhio a queste due squadre che a Londra vanno di moda come in tutta Europa, perché il Paris Saint-Germain sta regalando spettacolo, perché il City con Guardiola viaggia alla grande e Sanchez resta corteggiatissimo, pezzo pregiato del mercato, difficilmente purtroppo in quello italiano, sia l'Inter che la Juventus ci hanno pensato l'anno scorso, ma al momento accordi non ce ne sono e il suo stipendio che supera i 14 milioni di euro all'anno di richiesta resta inaccessibile per i nostri club. Un saluto da Londra da Fabrizio Romano, ciao!